Con Federico Lestini quanto e come ha influito lo scarso numero di rotazioni di Ferrara e comunque anche l'età media? Perché sembrava che in determinati momenti la squadra fosse in debito d'ossigeno. Non credo in debito d'ossigeno, non credo. Penso che le rotazioni accorciate, io penso che a vincere di vita mia, sono un vantaggio, non sono uno svantaggio. Penso che ha influito qualche volta la scarsa attenzione, siamo stati un po' disattenti e mi ha lasciato troppe cose facili. Si è pensato tutto questo è il motivo della sconfitta. Qual è stato il miglior giocatore secondo Federico Lestini di Chieti? Il miglior giocatore di Chieti? Penso a Ronaldo che abbia giocato molto bene. Penso a tutta la squadra, ha giocato una buona palla canasta, poi ha un fattore campo e i tifosi qui si fanno sentire. Come hai vissuto il cambio di squadra? Comunque non è stata abbastanza travagliata tra Bologna e Ferrara. Quanto hai influito sull'inizio del tuo campionato? No, onestamente non tanto, perché comunque Bologna è successa diciamo molto presto, è successo giugno, quindi non penso sia stato un problema. Scusate, non penso sia abbia influito. Abbiamo iniziato un po' a rodarci adesso perché è arrivato l'Americano due giorni del campionato, quindi siamo ancora un pochino in rodarci. Grazie mille, a voi.